Scontri tra ultradi Napoli e Roma sulla A1. 13 di coda e un ferito. L'acquistura, un agguato. Sono oltre 300 le persone coinvolte negli scontri tra napoletani e romanisti scoppiati intorno alle 13 sulla A1. A ridosso dell'area di servizio Badia Alpino al chilometro 364. La stessa dove nel 2007 venne ucciso Gabriele Sandri. Tifoso laziale, dall'agente Luigi Spaccarotella. Secondo le prime ricostruzioni i problemi sarebbero sorti in seguito al passaggio di alcuni van dei tifosi giallorossi. Davanti all'area dove le forze dell'ordine avevano predisposto un punto di sosta per la carovana oltre 30 veicoli partita da Napoli e diretta a Genova per assistere alla sfida di Marassi con la Sampdoria. Dall'autogrill sarebbe partito un lancio di sassi e fumogeni che ha scatenato la reazione di circa 150 romanisti. Diversi veicoli infatti si sono fermati sul ciglio dell'autostrada, con la fazione giallorossa che ha raggiunto a piedi l'area di servizio, venendo a contatto con i partenopei, dove sono scoppiati gli incidenti. Secondo la questura di Arezzo all'origine degli scontri l'agguato teso da un gruppo di ultra del Napoli e i romanisti in transito per raggiungere Milano. Il bilancio è pesantissimo. Sulla 1 si sono formati circa 13 chilometri di coda tra Monte San Savino e Arezzo. Il tratto di strada è già stato riaperto con le forze dell'ordine impegnate nell'identificazione delle persone coinvolte. I due gruppi si sono affrontati brandendo spranghe, cinghe e bastoni. Le conseguenze più gravi al momento, sono state riportate da un tifoso romanista rimasto lievemente ferito con un'orma da taglio e trasferito all'ospedale di Arezzo. Che tra le due tifoserie, un tempo gemellate, non corra buon sangue è un fatto noto. Una rivalità particolarmente sentita ma esplosa definitivamente nel 2014 dopo la morte di Ciro Esposito. Ucciso in seguito ad un colpo d'arma prima della finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina disputata all'Olimpico. Un episodio che ha tracciato un solco profondissimo nei rapporti tra gli ultras giallorossi e quelli azzurri. Come dimostrano gli scontri scoppiati di qualche ora fa.